Non solo tradizione, fede e incontro ai riti della settimana santa, ma anche violenza, sangue e risse, a pochi passi dalla processione dei misteri, a pochissima distanza da chi ricorda la passione e la morte di Cristo. Diversi episodi nell'arco delle ultime ore, in particolare nella notte, poco dopo l'1.30, una rissa violenta si è consumata in Piazza Maria Immacolata, due le persone coinvolte in maniera diretta, ma tutto intorno una folla ad accalcare la scena. Arrivati immediatamente gli agenti della squadra volante e manette, sono finiti Costantino Gerardi e Giuseppe Fino, entrambi 26enne arrestati per rissa, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Fino, inoltre, detenuto agli arresti domiciliari, risponderà anche di evasione, accuse pesanti e ancora più dure e drammatiche, se si pensa allo spirito che animava invece la serata e agli stati d'animo di chi cercava solo un momento di preghiera o comunione. I due, inoltre, nonostante l'intervento della polizia, hanno mantenuto il loro atteggiamento violento, durante la cattura, infatti, hanno cercato di fuggire, facendosi spalleggiare anche da altri giovani presenti sul posto e provocando perfino diverse contusioni ai presenti e non solo. Colpiti anche i poliziotti, soccorsi in ospedale, e che hanno riportato prognosi dagli 8 e 15 giorni, ma i due sono finiti in carcere. Nella serata, poi, un 34enne Tarantino ha rimediato una denuncia per detenzione abusiva di arma da fuoco. Se ne andava in giro, infatti, armato di pistola Beretta calibro 22, che, seppur senza cartucce, avrebbe potuto creare il panico nella folla se solo l'uomo avesse deciso di tirarla fuori. L'arma, regolarmente denunciata dal padre del 34enne, è stata sequestrata durante una perquisizione a casa del fermato. Poi, gli agenti hanno recuperato anche due coltelli. E ancora è stato denunciato in stato di libertà un Tarantino di 43 anni per lesioni aggravate. verso le 2.30 la polizia è stata chiamata dal personale del pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove si era presentato un uomo di 40 anni con ferite d'arma da taglio al torace, al collo e al viso, le continue richieste di aiuto economico da parte dell'aggressore disoccupato e indigente, la causa scatenante della lite consumata in via Principe Amedeo. Gli agenti, raccolta la testimonianza della vittima, hanno rintracciato e denunciato il responsabile, 43enne vicino di casa del ferito. Una bottiglia Molotov, invece, è stata lanciata sempre nella notte contro un bar di via 20 Settembre, nel borgo di Taranto, mentre era in corso ad alcuni isolati di distanza la processione della dolorata. Gli attentatori hanno agito, nonostante la presenza per le vie del centro cittadino di centinaia di fedeli. La bottiglia incendiaria ha danneggiato la sala cinesca del locale e sono in corso le indagini.